Nei giorni scorsi l'amministrazione comunale di Montegrovino Rovella ha candidato al Bando Sport e Periferie 2018 il progetto di riqualificazione della palestra polifunzionale Sabato De Luca, sita in frazione Santeustacchio. Il progetto, del valore di 99.000 euro, prevede la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale della struttura, che attualmente versa in condizioni di degrado. Il Bando Sport e Periferie, spiega il consigliere delegato allo Sport Pino Farabella, rappresenta un'occasione per poter riqualificare una struttura degradata, lasciata deperire nel corso degli anni.